un trilli così non l'avete mai visto sembra più un trolley ma è bellino mammo invece vestirei tutti i giorni non è vero mai si ragazzi anche trilli fa la cacca pensavate di nuovo anche trilli fa la cacca sono la vostra campanellino ciao ragazzi se avete un desiderio potete esprimerlo sta pieno di pelo si si ma domani è vero che il papa si rimette può essere può essere questa se la vede la mia nonna oh no il papa si sta per rimettere si si è quasi sicuro oh vedi nonna guarda ecco la nostra macchina no ho sbagliato la retro manovra mamma mia check point ecco le ragazze non lo sanno loro dicono sempre non lo so per essere perfetti toccherebbe farla ai 27 dotto rifammi un po' il seno guarda vediamo fammi controllare controlla dotto no mi prendo che va bene ce la turgidi è la giornata internazionale degli anziani quindi state vicino agli anziani lo dice Trilli state vicino agli anziani siamo chiedendo aiuto alla guardia costiera alla guardia costiera hanno detto che ci seguono bisogna chiedere in aiuto una cosa che la guardia costiera sta pieno tutte sorche voi ci vengono anche a guardare la costa guardano la costa stanno con le donne asciate aspettate ho più parole ragazzi è pazzesco dove siamo finiti ma poi guarda su che trabiccole ragazzi io una cosa così penso boh è incredibile andiamo via andiamo a giocare a padron no no non vuoi finire la fine ora come dondola guarda quanto dondoliamo guarda non è normale no sono un po' lente ste cose davvero guarda guarda staremo a uscilla dei 8 metri ma che stai di 8 metri ma perché va contro bilancio è sempre di più con sto trabiccolo ma quanti metri staremo ha detto 1.5 1.8 Mariano sta sotto a sedere prende il suono vabbè sta pieno dei salami no minimo 2 che bello potete andare più su 18 ma guarda ma che sta sopra in grattacielo ma che problemi c'è lo sto facendo anch'io 10% di batteria suonarica Mario maiuscolo ho paura del vuoto dimmi qua ti tengo io che vuoto dove sta il vuoto ma io ho paura vai dai sta buono Maria ho paura dai mi sono cagato addosso per comprare sto in belle ecco oh ho paura c'è sta buono mi sono 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 in grattacielo ma non so ma minchia sto a mille ma mia eh Maria è una cosa più bella to beccatevi questo adesso bagno e vai aperitivetto grande Luca a lui numero uno è un fratellino che bello e anche lui sempre concentrato sulla musica se cliccate questo link vi ho lasciato un video veramente 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 bello che parla dei nonni quindi cliccate fate cos'è andate a vedere su youtube grazie alla base a che ora si fa stasera cena grazie Maria su bebe bella sta canzone bella non è chiede è un cantante vero no come te le chiede andiamo a peeeo perché sa pieeeo bella sta canzone sta pieno che canzone bella sta pieno michelone palapone mirko faccia sta bene buon prezio a tutti ragazzi stanno a dormire mariano ha fatto serata mariano sta facendo serata con gli altri mi abbandona un'ora che sta guarda gli squirtle i pokemon comunque grazie mille per gli aiuti di oggi come hai fatto tu così grazie mille per gli aiuti di oggi siete stati fondamentali siamo arrivati ben ultimi siamo arrivati non è vero non è vero Maria ancora una giornata molto stressante ma domani ci daranno altri indizi domani affitto una macchina torna a casa affitta 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 domani mariano sta con me ma te lo faccio male dormi sta senti sta cosa tutta stanotte dormi sta zitto giusto guarda 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 non so il garage con il minano si rumore sapete fa il billo buono è vero è uguale la prima sta senti sta cosa tutta stanotte dormi dormi nonuem così già guarda 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 sembra quando sto sul garage con il mio nonno sti rumori sapete fa il billo buono è vero è uguale